Non mi piace fare dei nomi in generale, però è Gonzalo Rodriguez, penso sia un giocatore che abbia un giocatore di livello internazionale. E poi se sei d'accordo con chi dice che Gomez Rossi è una delle coppie più forti del campionato, forse è una coppia che... Io vorrei dire una roba su Rossi, è un giocatore che ha subito due interventi importanti alle cenocche, io li ho più avuti, interventi alle cenocche, so cosa vuol dire. Quindi bisogna avere, secondo me, un po' di pazienza perché non è detto che... cioè non è detto, mi auguro che sia così, però un minimo di adattamento, di ambientamento per lui ci vuole perché tornare ad altissimi livelli per già, da quello che ha subito l'operazione, c'è il metto uno che ha subito i due, uno vicino all'altra, bisogna dare un po' di tempo perché non sono così. Chiedere una cosa, visto la tua veneranda è da Montella, Montella è il più forte da allenatore o da giocatore? Diciamo, se fa quello che ha fatto, se continua a fare, se fa quello che ha fatto da giocatore diventa il più forte di tutti perché da giocatore, personalmente, era uno dei due o tre attaccanti più forti che c'era in circolazione quando giocava. Grazie. Grazie. Grazie.